Ciao, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi con me in un attimo dedicato a voi. Un attimo di rilassamento super 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 intensivo e quindi voglio iniziare questa sessione facendovi vedere degli oggettini che potrebbero davvero esservi utili nella pratica. Un attimo di rilassamento quotidiano e vi faccio subito vedere. Allora, queste scatoline contengono dei gioiellini davvero molto 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 preziosi. Sono di Serenity Jewels e vi faccio subito vedere cosa contengono al loro interno. Allora, innanzitutto la scatolina deliziosa lilla con questo crocreme qua davanti. Contengono degli anellini meravigliosi. Sapete, è la mia passione per gli anelli. In più, questi non sono dei semplici anellini ma svolgono un ruolo molto molto importante. Vi faccio subito vedere. Allora, guardate che meraviglia come luccicano. Questi gioiellini hanno il potere di rilassarvi. Come potete vedere, questa parte gira e può fungere da antistress. Come avete presente durante la giornata quando magari avete un attimo di stress, di ansia, di stanchezza, di pesantezza. Ecco, avete bisogno magari manualmente di manipolare qualche oggetto per scaricare tutta 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 la tensione. Bene. Questi anellini, tra l'altro, in argento 925. Quindi molto preziosi come anche qualità. Guardate, se si può vedere la luce. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Guardate, ecco. Durante la giornata potete manipolarlo. Tra l'altro è aperto, quindi regolabile. Lo potete regolare come preferite. In questo periodo di stress acuto, io lo trovo davvero innanzitutto super bello, ma poi super utile perché tendo a usarlo più volte al giorno. Io mi ritrovo così a giocare in larghi. E' davvero super super carino e appunto molto utile per sfogare il proprio momento di stress, no? E' davvero bellissimo. E' anche un regalo molto originale e secondo me che sarebbe molto molto gradito. Ne abbiamo anche un altro, sempre nella sua confezione lilla, molto carina. Io sono particolarmente in fissa con il lilla in questo periodo. Andiamo ad aprire e vediamo subito cosa contiene. Allora, continuo un altro modello di anellino, come potete vedere qua. Ve lo faccio vedere meglio indossato. Allora, anche questo, parliamo di un anellino in argento. E se vedete qua sotto l'unghia, non sono sporca, ma è un livido che sta scendendo giù perché mi ero schiacciata il dito. E' un anellino, dicevo, sempre in argento. 920. E' molto prezioso. E' sempre regolabile, come vedete qua. Questa parte qua sopra. La particolarità è che ha queste palline che, vedete, si muovono, non sono fisse. E quindi anche questo può essere molto interessante da manipolare durante quei momenti in cui dovete scaricare tutte le energie negative del periodo della giornata. Ecco, perché non farlo giocarellando con un anellino, tra l'altro, molto bello. Io amo questo tipo di gioielli, molto delicati, molto fini. E' molto minimal anche, no? Vedete? E poi con questa particolarità io non ne avevo mai visti così e sono davvero super super comodi e carini. E io trovo siano molto eleganti anche nelle mani. Insomma, invece di mangiarvi le unghie o le pellicine o anche altri modi, no? Per scaricare lo stress magari più tannosi. O perché no, magari anche per mangiare meno cicche o fumare anche meno. Siete in un periodo in cui avete bisogno di scaricare un po' di stress per vari motivi. Ecco, questa potrebbe essere un'idea tanto più fine, no? Sia estetico che appunto per darvi un po' di serenità. Trovate il codice sconto. Il codice sconto è il link al sito nella mia bio qua sotto. Se vi interessa, ma io vi consiglio di supportare questo tipo di iniziative di brand, molto utile e pensabile. Eccoci. Io amo particolarmente il rumore di questo tessuto, del tessuto popelin da camigeria. Lo trovo molto molto rilassante. Allora, è da un po' che non ci vediamo. È un periodo bello intenso e tosto. Come molti di voi sanno, sto affrontando un periodo impegnativo a causa del percorso del TFA. E inoltre, la settimana scorsa c'è stata anche la prima prova del concorso. Quindi si stanno accavallando degli impegni molto importanti e che richiedono un grande quantitativo di energia, di impegno. E' impegnativo veramente come non lo era da tanto tempo. Perché innanzitutto c'è il viaggio, perché io viaggio su e giù cinque giorni a settimana, tra cui il weekend dal mattino alla sera. In un'altra città, che è abbastanza lontano, quindi sono almeno, più o meno quattro ore di viaggio, tranne addirittura. E più cinque barra dieci ore di lezione a volta, più un esame a settimana. Più varie cose come preparazione di relazione, tesi, progetto a scuola, insomma, varie cose in più. Adesso c'è questo concorso che così ho voluto tentare e vediamo insomma come va. Io non ho grandi aspettative purtroppo, perché insomma non riesco a prepararmi su tutto, però voglio tentare perché, come si dice, ogni lasciata è persa. Quindi è giusto provarci e vedere come va, pur sapendo che magari non si riesce a fare il massimo. Ma certe cose sfuggono anche dal nostro controllo, quindi cerchiamo di prenderle per quelle che sono delle opportunità. E cerchiamo quindi di trovare un momento per dedicarci a noi. Cercherò di essere un po' più presente, ma se non mi vedete saprete il motivo. Però oggi voglio che prendiate un attimo per fare un respiro profondo. Provate proprio a mettere una mano sul vostro petto e una mano sul vostro addome. Sia che siate corregati o seduti, ecco, provate a ispirare e a sentire il vostro addome che si combina come un palloncino. Ripetete ancora una volta e cercate di trovare un punto di equilibrio come fosse un filo che vi attraversa dalla testa ai piedi. Cercate di stabilire un contatto con ciò su cui vi appoggiate. Sentitelo se siete corregati con le vostre spalle, la vostra testa, la vostra schiena, le vostre gambe e anche i vostri piedi. Rimanete in contatto con voi, con il momento. Cercate di sentire il vostro pancino che si gonfia come un palloncino. E che butta fuori tutte e tutte le vostre emozioni negative, tutto il vostro stress. E mentre siete lì, se i vostri pensieri scappano via, voi riprendeteli, riconcentrandovi sul vostro respiro e dando priorità a quello. Rimanete qui per un po' fino a quando non vi sentirete più leggeri, più liberi da pesantezze, consapevoli di voi stessi, delle vostre possibilità, energie e del vostro valore. Adesso provate a mettere le vostre mani sul capo, sentite il calore e l'energia che sprigionano le vostre mani e che si diffonde dalla testa fino a tutto, tutto il corpo. Ripetete, dal vostro capo si sprigiona un'energia come tanti fili elettrici che volano, 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 volano e attraversano tutto il vostro corpo. Rimanete con questa sensazione di potenza, ma anche di rilassamento. Stringete la porta a voi e lasciatela andare. Come un albero con le sue radici che sono profonde nel terreno, nel terreno, nel terreno, nel terreno, nel terreno, nel terreno. E con queste sensazioni, con questa delicatezza, con questa energia, prendetela. Sentetela. Tenetela con voi il più possibile. E piano, 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 vi addormenti, sereni e tranquilli. Io vi auguro una buonanotte. Ci vediamo presto. Buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte.